Buonasera a tutti di nuovo, io ero legato al presente ma oggi voglio fare un'escursione anche nella memoria. Però no, comincia tu dai, mi sembra... stiamo in piedi così diamo l'idea che non durerà moltissimo, ma sarà molto breve. Buonasera a tutti e grazie per essere qui così numerosi un lunedì sera. Allora, stasera vedremo Italiani Brava Gente, un film del 64 di Giuseppe De Santis e questo restauro che abbiamo realizzato lo scorso anno e che abbiamo mostrato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, lo scorso ottobre fa parte di un'opera più ampia che la Cineteca Nazionale sta portando avanti per valorizzare e restaurare l'opera di Giuseppe De Santis. Nel 2017 abbiamo già restaurato un altro film importante di De Santis, Non c'è pace tra gli olivi, che abbiamo mostrato alla mostra del cinema di Venezia e anche in quell'anno il Centro Sperimentale di Cinematografia ha pubblicato un volume monografico molto importante su Giuseppe De Santis che è anche una fonte interessante per quanto riguarda gli archivi che De Santis ha donato alla Cineteca Nazionale Centro Sperimentale di Cinematografia. Voi saprete che De Santis è stato un allievo del Centro Sperimentale nei primi anni 40 e poi un docente, quindi ha avuto un rapporto molto molto stretto nel corso degli anni con il Centro Sperimentale e poi appunto lasciato alla Cineteca Nazionale il suo archivio di documenti, di carte, preparatorie per i film, bozzetti, fotografie e abbiamo in archivio anche alcuni documenti, dei bozzetti molto belli e delle foto molto belle proprio riguardo alle riprese di italiani Brava Gente. Il restauro è stato realizzato a partire dai materiali negativi, originali, che ci sono stati messi a disposizione dalla Galatea che ringraziamo che erano depositati a Cinecittà e quei materiali avevano un inizio di sindrome dell'aceto quindi le bobine cominciavano a essere attaccate da una sorta di degradamento chimico-fisico e quindi era importante intervenire il prima possibile. Abbiamo fatto le lavorazioni al laboratorio Studio M che ringraziamo proprio per cercare di restituire il tono originale del film, il bianco e nero. Il film era stato girato su diverse pellicole e abbiamo cercato di mantenere quella caratteristica tipica del film dell'epoca. Sì, no, le cose io aggiungerei veramente rapidamente due cose prima di tutto volevo salutare Luisa De Santis che è qui con noi vieni un attimo qui insomma in modo che ti possano vedere che è la figlia di Peppe De Santis no, quello che appunto vi stavano raccontando quando poi le pellicole che sono dei corpi singolari noi non le vediamo o quando poi le guardiamo quando si ammalano, diciamo così il rischio gravissimo è che poi le immagini depositate su questo supporto evaporino del tutto e spariscono e purtroppo di alcuni film ci restano soltanto delle foto che non bastano naturalmente. in questo caso state per vedere forse qualcuno di voi l'ha visto qualcuno così diversamente giovane l'ha visto a suo tempo perché uscì appunto del 64 uscì credo l'anno successivo nel 65 se non ricordo male è un film davvero molto complesso molto delicato che però è uno snodo nella storia del cinema italiano e non solo italiano fondamentale per vari motivi racconta naturalmente dei nostri soldati in Russia c'è un cast che sembra quello di un super film hollywoodiano perché troviamo non solo Raffaele Piso ma anche Peter Falk Cucciolla e se non vi faccio l'elenco dei titoli di testa è una grossa coproduzione era intanto la prima coproduzione con l'Unione Sovietica e questo naturalmente perché essendo mio padre comunista si fidavano di lui no appunto la prima grande coproduzione è un film che però ha avuto vari problemi naturalmente per quello che raccontava perché c'era alle spalle questa coproduzione cioè quindi il film racconta un'epopea evidentemente come spesso fanno i film di guerra ma è stata un'epopea anche la realizzazione del film per cui ci sono ancora ricerche in corso accedere a dei materiali che sono depositati nell'ex Unione Sovietica e in Russia non è semplicissimo non è affatto semplicissimo ma no per motivi misteriosi e quindi al di là della collaborazione fattiva di mezzi, di presenze e naturalmente anche di comparse che ci sono nel film De Santis ci vorrebbero tre ore ma io in 30 secondi tutti lo conoscono come uno dei padri del neorealismo poi quando andiamo a rivedere dei suoi film c'è dentro un respiro un battito del cuore che fa pensare ai grandi film hollywoodiani proprio perché Peppa aveva una visione una visione del cinema che va al di là del dato semplice del raccontare hollywoodiani e sovietici hollywoodiani e sovietici perché poi alcuni grandi film sovietici hanno dei punti di contatto quindi è come se Eisenstein incontrasse Walt Disney e poi si può andare da qui all'infinito per fare un restauro naturalmente che è un impegno l'avete sentito in queste sere l'abbiamo detto anche il Centro Sperimentale di Cientica Nazionale non si occupa solo del futuro e questo bellissimo io non l'avevo visto questo qui è un corto che abbiamo visto è davvero molto molto bello molto bello complimenti veramente complimenti a tutti complimenti bravissimo bravissime le attrici molto bello davvero complimenti sembra una super produzione invece credo che so benissimo che i film di diploma sono fatti no invece sembra veramente perché ha una ricchezza visiva accidenti veramente veramente bravi tutti complimenti e anche nel film di De Santis per motivi diversi quello che state per vedere voi giustamente avete sottolineato l'importanza dei luoghi dove qualcosa accade dove un racconto prende forma e naturalmente anche nel film di De Santis i luoghi sono decisivi stavo dicendo io volevo invitare Paolo Rossi Pisu a raggiungerci perché perché le risorse del centro sperimentale che si deve occupare di un'infinità di cose e se ci vorrebbe un budget infinito per restaurare tutte le cose che state vedendo e come dire l'armonia l'alleanza con Genoma infatti sei proprio ti sei imbrandizzato ha dato vita non solo a questa prima collaborazione e anche al restauro di Pasqualino Settebellezze che vedrete in una delle prossime delle prossime serate che è stato invece presentato al Festival di Cannes allora questo è un atto d'amore per il cinema è un atto d'amore però che ha a che fare con l'albero genealogico certo io posso solo dire che è un atto d'amore per nostro padre qui in sala qui c'è anche Antonio Pisu mio fratello che è un regista e che insieme a lui abbiamo fondato Genoma Films il nostro obiettivo è logicamente preservare l'arte il più possibile io spero che la Cineteca Nazionale ci dia la possibilità anche l'anno prossimo di fare un bel restauro devo dire che sono molto emozionato due figli il figlio di Raffaele Piso e il figlio di Peppe qui è davvero sono un po' ingrassato ma adesso sto cercando di dimagrire no perché lui è dimagrito il papà adesso è un pochettino più magro però è vivo a 95 anni anzi saluta tutti non è potuto essere qui questa sera felice io l'ho visto l'ho visto quando c'è stata l'altra proiezione l'altra volta a Roma in gambissima ancora con la testa ancora perfetta ha raccontato duemila aneddoti meravigliosi peccato che non ci sia purtroppo non è potuto venire questa sera ma contiamo magari più avanti simpaticisti poi è divertente sapere quello che lui dice del film e del rapporto con il tuo papà molto per lui racconta delle cose meravigliose guarda che io non so perché non c'ero io so qualche aneddoto raccontato da loro non so tu ne sai di più no va bene ma non voglio non voglio togliere tempo alla no adesso adesso vediamo il film Paolo credo però sia importante perché poi per questo film per il restauro di questo film è accaduto qualcosa da un punto di vista tecnico finanziario che è giusto segnalare no proprio sì grazie alla Cineteca Nazionale a Felice Laudadio a Marcello Fotti abbiamo avuto l'opportunità di utilizzare uno strumento che si chiama Bonus Art che deriva dalla legge Franceschini che permette appunto alle aziende di investire e noi abbiamo diciamo un pool di aziende che lavora insieme a noi insieme al Genoma Films e abbiamo investito nel restauro di Treni Brava Gente nel restauro di Pasqualino Sette Bellezze e speriamo proprio di poterlo fare anche l'anno prossimo cioè l'Art Bonus è uno strumento eccezionale fatto dice Felice che è fatto Felice formalmente forse qualche c'è in sala qui scusate dico sempre in sala mi sbaglio qualche industriale che ha degli utili sappia che investendoli nella preservare l'arte può permettersi di sostanzialmente avere una fiscalità di vantaggio del 65% sulla cifra che investe è molto importante investire nell'arte conviene conviene quindi investire come dire un fatturato positivo arricchisce la cultura e siamo molto felici allora noi abbiamo finito però prima di andar via prima di andar via c'è c'è sempre un omaggio sono delle cianotipie a mano realizzate da Silvia Agostini che lavora e sono tratte da un fotogramma di uno dei grandi film restaurati che è polvere di stelle allora noi vi lasciamo e vi lasciamo in compagnia del film passate una buona aspetta mostrate un attimo scusate per questa è una cianotipia cianotipia la conoscevi prima di venire qui stasera? no? va bene ti impara sempre qualcosa sempre tutti i giorni buona visione veramente state incontrando un pezzo di storia vi aspettiamo domani ovviamente buona serata grazie grazie grazie